Il ministro delle comunicazioni Ost Venturi, presente il sottosegretario alle comunicazioni del RAI, inaugura l'esercizio della linea elettrificata Bologna-Trento. La realizzazione di quest'opera, iniziata nel 1940, ha richiesto 3.500.000 giornate lavorative. Con la elettrificazione di questi 205 chilometri, l'Italia possiede oggi un complesso di 5.218 chilometri di linee a trazione elettrica. Con l'elettrificazione di questo nuovo tronco, sarà possibile recarsi da Reggio Calabria al Brennero con treni elettrici. Grazie. 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 Grazie.